Grazie a tutti. I vari partiti, tanto per cambiare rispetto alle tornate elettorali precedenti, l'ultima tornata elettorale forse ero minorenne, i programmi si somigliano tutti, questo è uno dei grossi problemi che abbiamo in Italia. Molti programmi uguali e pochi risultati successivamente, forse perché quelle poche cose che differenziano un programma dall'altro crea un grave ostacolo nell'unione tra le varie forze. Condivisione di programmi e condivisione, bello è stato soprattutto quando ho visto la condivisione del programma tra Potere al Popolo e un rappresentante della coalizione di centro-destra. Quindi è importante vedere quanto siano importanti alcuni aspetti ma che poi si perdono per strada. Condivisione anche del documento prodotto da NC e Confimi. Qualcuno ha detto sì, però è un documento che ha troppe proposte. Questo è un primo evento, è la prima volta che viene organizzato un evento nel quale i candidati non vengono chiamati a promettere ma vengono chiamati ad ascoltare le richieste del territorio. E' chiaro che sono tante le richieste da fare, molte toccano la tasca della ragioneria ma molte altre no, anzi molte potrebbero non toccarle, vedi la fatturazione elettronica, potrebbero anche essere un input per evitare di toccare la tasca dello Stato. E quindi poche ma buone, bene, poche ce ne sono già che se ne possono fare. Si è parlato di deflazione delle norme fiscali, io non sono riuscito, mi ero impegnato a recuperare un documento che l'Associazione Nazionale Commercialisti di Napoli aveva prodotto un paio d'anni fa. Era un plotter che prendeva un'intera parete nel quale erano indicate tutte le scadenze fiscali dal 1 gennaio al 31 dicembre. Questo due anni fa, oggi dovremmo occuparne due di pareti, soprattutto con la produzione normativa del 2017 come giustamente è stato detto. Che dire, è chiaro che come conseguenza naturale è importante vedere molti colleghi che si sono candidati, è importante che come categoria siamo presenti nelle stanze che contano. Quello che è importante, come giustamente è stato detto, è che poi non ci si scordi di essere commercialisti una volta che ci si è seduti in quella bella realtà. Continuazione, certo, noi ci siamo come ANC, ci siamo come Confimindustria, correttissimo che ci potreste essere anche voi, perché noi vi chiameremo e saremo curiosi di vedere sia da parte nostra che da parte vostra, perché ognuno deve avere il coraggio di ammettere anche i propri punti deboli. Tutti i colleghi sono stati invitati, c'è poca sensibilità in tal senso, anche noi dobbiamo crescere tanto, ma molto si è investito negli anni passati nel lamentarsi e poco si è investito nel cercare di cambiare le cose. Noi come associazione nazionale commercialisti ci stiamo provando, continueremo a farlo, posso garantire alla collega che se tu dovessi essere eletta, tu o anche tutti gli altri presenti, noi continueremo a incontrarci, continueremo a farvi delle proposte, a condividere dei momenti nella speranza di poter trovare uno e buono punto di incontro per un'Italia diversa. Grazie a tutti ancora per la partecipazione e speriamo diverso ancora. Grazie a tutti.